La stazione di Trieste centrale. Questa stazione esiste dal 19 giugno 1878. Sostituì la precedente stazione di Trieste che dal 27 luglio 1857 collegava Trieste con Vienna. Siamo qui al chilometro 576,5 della Siedbahn. La parte finale della linea Vienna-Trieste doveva collegare Ljubljana con Trieste, passando il Carso. Il tracciato proposto in origine fu la cosiddetta linea di Lack che da Ljubljana doveva raggiungere Scoffia-Locka, Bischofslack, poi Idria, seguire Lisonzo e poi venire a Trieste. Si optò però per un tracciato più breve. L'attuale linea. Carlo Ghega anche qui dimostrò il suo genio vincendo ampiamente i problemi posti dall'altipiano carsico. La linea da Ljubljana sale sull'altipiano, raggiunge un culmine prima di Postumia, un secondo culmine a St. Peter in Crane e poi scende continuamente fino a Piccina. Qui però essendo a 350 metri di altezza deve ancora fare un lunghissimo tornante passando per l'antica Navresina, oggi Auresina, per arrivare a Trieste. Questa geniale soluzione di Ghega è ancora oggi validissima. Oggi la linea non è più il collegamento Vienna-Trieste perché le sorti delle due guerre mondiali hanno mutato la situazione. Rappresenta però il principale collegamento fra l'Italia e anche fra l'Europa occidentale come la Francia e la penisola balcanica. Il profilo della linea vede una continua salita dopo Trieste, dopo Piccina si continua ancora a salire fino al culmine. L'antica St. Peter in Crane, poi St. Pietro del Carso e oggi Piucca. Una breve discesa, poi una risalita fino a un culmine dopo Postumie, la quota massima di 603 metri. E poi una continua discesa fino a Ljubljana. Il nostro viaggio ha inizio alla stazione centrale di Trieste, all'epoca Trieste-Sidbanhof. Le ferrovie austriache infatti, ai tempi dell'impero, sorsero molto più tardi. In origine il governo imperiale non voleva accolarsi l'onore di ferrovie, perciò la ferrovia venne costruita da una compagnia privata, la Sidban, la ferrovia del sud, la ferrovia meridionale, di proprietà dei baroni Rothschild. La linea, genialmente progettata da Carlo Ghega, come si è detto, arrivava in origine a Trieste in un'altra stazione, posta ad una quota di 10 metri sul mare. Questa situazione, che durò dal 1857 al 1878, venne poi rimediata con l'attuale validissima stazione. Si comincia poi in salita dell'11 per mille a costeggiare il mare. Si passa per la stazione di Grignano, si continua sempre a salire, così al bivio di Nabresina, oggi bivio di Aurisina, dove nel 1860 si diramò la ferrovia verso l'Italia, che a quell'epoca era ancora parte dell'impero austriaco, e doveva andare a Venezia, Milano, via Udine, e poi, dopo le guerre di indipendenza, porterà invece il confine a Cormons. La nostra linea passa il grande viadotto di Aurisina, lungo 417 metri, e raggiunge la stazione di Aurisina. Sempre con una pendenza media dell'11 per mille, la linea sale serpeggiando nel carso. Nelle vicinanze di Opicina vi è la prima variante della linea, che un tempo passava per la stazione di Opicina-Campagna, e poi intersecava la Transalpina. Oggi le due linee sono riunite nella nuova stazione di frontiera di Villa Opicina. L'esercizio passa qui alle ferrovie slovene. Si continua serpeggiando nel carso, si passa il confine di Stato e si arriva a Sesana, diramazione del nuovo tratto per la Transalpina. La linea continua poi ancora sul carso e arriva a Divaccia, dove vi è la diramazione per Pola, la vecchia linea Divaccia-Pola. Oggi importante invece come Divaccia-Capodistrie. Anche qui vi è una variante con la costruzione di un triangolo ferroviario che un tempo non c'era. Si continua poi lungo il Monte Vremscica. La linea continua a serpeggiare, vi è qui anche un gruppo di gallerie, sei per l'esattezza, sempre sul fianco del Monte Vremscica, e si arriva così alla stazione di diramazione di St. Peter in Crane, San Pietro del Carso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Piucca, da dove vi è la diramazione verso Fiume. Qui vi è il primo culmine della linea, poi in discesa si prende direzione nord e si passa per Prestranek. Si giunge così alla celebre località di Postoina, Postumia, dove vi sono le celebri grotte. La linea poi sale verso il culmine, che si trova qui, e questo è il punto massimo. Poi comincia la discesa. Con pendenze varie fra il 9 e l'11 per mille, si aggira la piana di Rakek e si comincia poi a costeggiare la valle di Planina, una valle che, allo sciogliersi delle nevi, viene alluvionata ed è praticamente d'estate una valle e in primavera un lago. Si arriva così a Lugatez e poi si continua sempre serpeggiando sul fianco del monte. Arrivando a Borovnizza, l'antica Franzdorf, qui la linea ha subito un'importante variante, con la nuova grande ansa che ha sostituito il vecchio tracciato dopo il crollo del grande viadotto di Borovnizza. vediamo qui una grande U. La situazione di Borovnizza, la pendenza si attenua. Si raggiunge così Prescerie e poi si inizia a percorrere la cosiddetta Palude di Ljubljana. Passata a Bresovnizza si arriva a Ljubljana. Qui la linea si incontra con la linea del Principe Rodolfo che proviene da Jesenice. Vi ha anche la diramazione per Kamnik, una linea secondaria. A sud si dirama la linea per Metlica, verso il confine croato. La Sidvan invece procede a questo punto verso est e poi lungo la Sava fino a Zidani Most per poi prendere direzione nord verso Maribor, Graz e Vienna. Ora viaggiamo da Trieste a Ljubljana con l'Espresso 221, il Simplon Express. Erede del Simplon Oriente Express Parigi-Istambul, divenuto poi Simplon Express Parigi-Belgrado, oggi a causa della guerra nei Balcani e dei TGV Parigi-Losanna, il Simplon Express ha cambiato percorso. Da Ginevra Aeroporto a Zagabria, 221, e da Zagabria a Ginevra Aeroporto, 220. Il nostro 221 attende l'ora della partenza. Il segnale di partenza si dispone a via libera. È giunta l'ora della partenza e viene dato il via. Il macchinista aziona la leva apposita e il treno si avvia, da Trieste verso Ljubljana. Si parte dal binario numero 7 di Trieste Centrale, l'antica Trieste Sidbanhof. Il segnale di partenza è posto a destra e perciò la vela quadrata. La luce verde via libera con avviso di via libera e il triangolo sotto impone la velocità di 30 km l'ora sugli scambi successivi. Cominciamo a percorrere il piazzale di Trieste Centrale passando accanto alla grande cabina a Ciei. Con queste deviate ora ci mettiamo nel binario di corsa. Passiamo ora fra la squadra rialzo a sinistra e il deposito locomotive a destra. Le tavole di orientamento ci annunciano ora il secondo segnale di partenza di Trieste Centrale che protegge l'uscita dalla stazione Merch di Trieste Scalo e la successiva diramazione per la galleria di circonvallazione. Con la sua luce verde il segnale ci dà via libera con avviso di via libera. L'indicatore di direzione sotto numero 1 direzione Bivia-Urisina. All'altezza di Trieste Centrale Scalo che si trova ora a sinistra la velocità può salire a 60 km l'ora. Ci avviamo ora al ponte sul viale Miramare lungo 30 metri dopo il quale vi è il km 575,5 da Vienna dove oggi vi sono gli scambi di diramazione gretta verso la circonvallazione dove si innestava qui da destra il vecchio tracciato della Sidband. vediamo allontanarsi a destra la linea verso la grande galleria di circonvallazione che porta alla stazione di Campo Marzio ed è lunga 5,5 km. Siamo qui al 14 per 1000 in ascesa vediamo ora il faro di Trieste il terzo segnale di partenza l'ultimo e definitivo con la luce verde ci dà via libera e avviso di via libera sul successivo blocco automatico si chiude qui il triangolo verso la galleria di circonvallazione con gli scambi estremi di Barcola la velocità qui è ora di 75 km l'ora ecco la galleria di Barcola lunga 75 metri l'ottava galleria per chi proviene da Ljubljana segue subito uno dei più grandi viadotti della linea Vienna-Trieste il viadotto di Barcola lungo 250 metri la pendenza ora è dell'11 per 1000 e rimane più o meno costante fino a Prosecco passato il viadotto di Barcola le tavole di orientamento ci annunciano ora il blocco automatico 37 verde via libera con avviso di via libera i posti di blocco hanno qui origine da Mestre il numero aumenta da Mestre verso Trieste vi ho ora qui una serie di viadotti brevi il viadotto di Bovedo di 55 metri qui segue poi il viadotto di Contovello e la velocità ora può salire a 90 il nostro treno infatti essendo un espresso con ottime carrozze può viaggiare in rango B ecco ora le tavole di orientamento del blocco automatico 36 verde via libera con avviso di via libera subito dopo vi è il viadotto di Ceda Samare di 68 metri sulla destra vediamo in fase di montaggio eccolo qui il nuovo segnale di avviso della stazione di Grignano la linea è infatti in procinto di essere banalizzata il successivo blocco automatico è preceduto da tavole di orientamento con in mezzo una riga gialla verticale e quindi anche un segnale di avviso è infatti l'avviso della stazione di Grignano la luce verde ci dà via libera con avviso di via libera questa zona era una zona frannosa un tempo ma i muraglioni che abbiamo visto a destra oggi impediscono qualsiasi frana ci avviciniamo ora alla fermata di Miramare una fermata storica per il castello di Miramare questa è preceduta dal viadotto Miramare I di 46 metri questa fermata venne costruita per consentire all'arciduca Massimiliano alla corte e anche al fratello l'imperatore Francesco Giuseppe di raggiungere il castello di Miramare rimasta poi come piccola fermata venne chiusa negli anni 60 e recentemente è stata riaperta per il vicino centro di fisica dopo la curva il viadotto Miramare II di metri 46 è il segnale di protezione di Grignano che con la sua luce verde ci dà via libera con avviso di via libera ecco poi il viadotto Puccino di 43 metri la stazione di Grignano è una stazione di periferia di Trieste ha una scarsissima importanza ed è più che altro una stazione utile per spezzare la tratta fra Trieste e Bivea Urisina e consentire così in caso di interruzioni l'esercizio oppure anche nell'esercizio normale precedenze di treni ecco la stazione Cina è il segnale di partenza che ci dà via libera con avviso di via libera sul successivo blocco automatico luce verde abbiamo anche visto i nuovi segnali in fase di montaggio passiamo ora il viadotto di Grignano di 38 metri ci avviamo ora la zona dove abbiamo le curve più strette di questo tratto costiero la più stretta di tutte in corrispondenza di questo casello ha solo 375 metri di raggio le tavole di orientamento mentre passiamo il breve viadotto di Santa Croce di 19 metri ci danno ora la luce verde via libera con avviso di via libera del blocco automatico 33 ci avviciniamo ora alla vecchia fermata di Santa Croce di Trieste che secondo l'attuale politica FS è praticamente abbandonata questa fermata aveva la caratteristica di avere il fabbricato viaggiatori non all'altezza dei binari ma più in alto lo possiamo vedere infatti qui in alto sulla destra la linea continua a salire di quota mentre a sinistra il panorama sul golfo di Trieste è bellissimo ci sono alte tavole di orientamento con la riga gialla ecco il blocco automatico 32 giallo verde lampeggiante via libera e avviso di via libera a 60 e questo infatti il segnale di avviso del bivio di Aurisina qui un tempo vi era un pericoloso passaggio a livello che è stato poi sostituito da questa nuovissima strada con questo imponente ponte in questa zona ai tempi la costruzione della linea si trovò l'acqua del fiume Timavo che sgorgava nelle polle di Aurisina venne così costruito l'acquedotto per rifornire le locomotive ma anche per rifornire Trieste sulla destra ora possiamo vedere uno di questi antichi manufatti il portale di una camera di pompaggio che però oggi è abbandonata ecco sulla destra il portale quella volta oltre a costruire cose importanti si cercava anche di farle artistiche il treno riduce la velocità a 60 km all'ora mentre ci avviciniamo al vecchio bivio tunnel divenuto poi dopo il 1918 bivio galleria ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione esterno di bivio Aurisina è un segnale a candeliere luce alta rossa luce bassa a destra verde via libera a 60 km sulla diramazione verso destra qui a sinistra abbiamo tutto meravigliosi scorci sul golfo di Trieste ed ecco ora apparire l'antico bivio tunnel oggi bivio galleria diramazione dal 1860 della linea verso Cormons, Udine e l'Italia di cui vediamo la galleria di Aurisina di 271 metri a quell'epoca la linea principale era quella che percorriamo noi oggi e qui vi era la diramazione oggi la cosa è rovesciata la linea principale è la Venezia-Trieste e noi ora facciamo la diramazione stiamo ora viaggiando in stazione di bivio Aurisina sul quadro di comando questo binario è comandato dalla stazione noi non vediamo la stazione la stazione e non vede noi ma qui siamo in stazione praticamente arriviamo così all'antico bivio viaduct il bivio viadotto dove si chiude il triangolo di bivio Aurisina ed ecco il segnale di avviso di Aurisina giallo lampeggiante avviso anticipato di via impedita la velocità ora può risalire ad 80 iniziamo così a percorrere il grande viadotto di Aurisina lungo 417 metri uno dei più importanti viadotti della linea Vienna-Trieste alla sua inaugurazione intervenne l'arciduca Massimiliano il frantello di Francesco Giuseppe costruttore del castello di Miramare e poi sfortunato imperatore del Messico in fondo si vede il segnale di protezione di Aurisina che mostra il giallo ma poi il segnale passa al verde e ci da così via libera con avviso di via libera ecco il segnale passato al verde entriamo ora nella stazione di Aurisina l'antica Nabresina ai tempi dell'Austria i treni si fermavano tutti a Nabresina e proseguivano poi verso Cormons mentre le carrozze per Trieste scendevano a Trieste viceversa le carrozze salivano da Trieste e si congiungevano qui ai treni che venivano da Cormons Nabresina era importantissima il suo fabbricato è perciò un fabbricato imperiale vediamo qui a destra e a sinistra i binari di salvamento per eventuali fughe di carri da Opicina ecco apparire il grandioso fabbricato viaggiatori dell'antica Nabresina davanti vi era anche una grande tettoia in ferro a cupola oggi la stazione è decaduta una nobile decaduta in questa stazione si trovava persino un appartamento destinato ad un eventuale pernottamento dell'imperatore in fondo il segnale di partenza luce verde ci dà via libere i segnali non sono qui più concatenati e qui finisce il blocco automatico e comincia il blocco elettrico dopo il passaggio a livello della strada che da Orisina porta al confine verso Comeno finisce la stazione di Orisina sempre con pendenza dell'11x1000 continuiamo ora a salire serpeggiando sull'altipiano carsico per tutto il percorso fino a Ljubljana nella zona carsica il tracciato sarà più o meno così per tutto il percorso fino a Ljubljana nella zona carsica il tracciato sarà più o meno così dei brevi rettilinei più o meno lunghi raccordati da curve curve abbastanza dolci da permettere oggi una velocità sempre sulle 80-90 km l'ora il fatto poi che la linea sia nata a doppio binario la dice lunga sulla lungimiranza di Carlo Ghega è una linea tuttora validissima è una linea tuttora validissima la linea tuttora validissima la linea tuttora è stata più o meno inizia l'unico quando si intenzia ha avvisato un'unico 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 ... Ci si accosta ora in questa curva all'ex camionale 202 divenuta ora autostrada Negli anni 30 venne intrapreso un progetto di modernizzazione della linea da parte delle FS vennero così costruiti dei posti intermedi dei posti di blocco intermedi il PB3 si trovava quindi a metà fra Orisine e Prosecco serviva anche un piccolo passaggio a livello ma poi negli anni 60 è stato soppresso perché inutile con il traffico attuale ora però sulla sinistra vedremo l'antica costruzione del PB3 abbandonato a? no no ti ma ? no ? Sopra questo ponte passa la strada Prosecco-Sales-Sgonico. Appare in fondo il segnale di avviso di Prosecco. Preceduto dalle tavole di orientamento, poiché è solo un segnale di avviso, le tavole di orientamento sono a strisce bianco-nero orizzontali. Luce verde, avviso di via libera. Ci stiamo ora avvicinando all'antica stazione di Prosecco. Divenuta poi, con la soppressione del servizio viaggiatori, un odierno scalomerci, nel quale vengono effettuate stoganamenti di bestiame e anche manovre di appoggio a Villa Opicina. Il segnale di protezione di Prosecco, preceduto dalle sue tavole di orientamento con le strisci inclinate, verde via libera con avviso di via libera. Vediamo qui sulla destra un gruppo di carrozze di quelle contestatissime per via dell'Amianto. Sono qui accantonate in attesa di proseguire verso paesi dell'est. Entriamo così nell'attuale scalomerci di Prosecco. Sulla destra, la piccola stazioncina di Prosecco, nel suo bellissimo stile, ci ricorda l'origine Sidban. Il segnale di partenza verde ci dà via libera fino a Villa Opicina. Dopo questa curva la velocità sale e il nostro treno può viaggiare ora a 100 km l'ora. Si passa ora sopra il ponte della strada che porta a Borgo Grotta Gigante. E ci avviciniamo così al punto dove il vecchio tracciato della Sidban di Carlo Ghega viene abbandonato per il nuovo tracciato per la riunificazione della Sidban e della Transalpina nella nuova stazione di Villa Opicina. Ecco, ora con questa curva a destra si abbandona il vecchio tracciato e si ci porta sul recentissimo tracciato, mentre le tavole di orientamento ci annunciano l'avviso di Villa Opicina. Giallo-verde, avviso di velocità 30. Questa nuova variante è più tortuosa e comporta un aumento della pendenza al 14 per 1000. In questo modo però le due linee sono state riunite. La stazione Sidban di Opicina è divenuta poi dopo il 1918 Opicina Campagna e quindi oggi chiusa e diventata un semplice deposito di carri di sussidio a Villa Opicina. Il treno riduce la velocità 30, il segnale di protezione preceduto dalle tavole di orientamento rosso-giallo, velocità 30 e avviso di via impedita. Il treno entra così nella nuova stazione di Villa Opicina. In alto a destra vediamo la linea transalpina che proviene da Trieste-Campo-Marzio. E' questa la linea che dal 1906 costituiva il secondo collegamento di Trieste verso l'Europa centrale. La grande rampa sud del Carso della linea transalpina finisce qui, nella vecchia stazione di Opicina. Sul piazzale della vecchia stazione di Opicina è sorta oggi la nuova grande stazione di frontiera della stazione di Villa Opicina dagli anni 60 in poi. ed ecco il nuovo grande piazzale della stazione di Villa Opicina. L'elettrificazione in corrente continua a 3000 Volt venne compiuta dall'FS all'inizio degli anni 30 e poiché quella volta il confine era molto più avanti portata fino a Postumia. Dopo la guerra così, le ferrovie jugoslave trovarono nella Slovenia l'antico sistema FS che venne mantenuto. Eccoci arrivare sul primo binario di Villa Opicina per il controllo della polizia di frontiera. Passiamo ora davanti alla vecchia stazione di Villa Opicina, divenuta oggi sede della delegazione slovena ed abbruttita da queste nuove aggiunte. ed ecco la nuova grande stazione moderna di Villa Opicina con dietro sullo sfondo il fabbricato del dormitorio. Il nostro treno si arresta in anticipo di due minuti nella stazione di frontiera. Vi è ora il controllo della polizia e il cambio di locomotiva. Dal punto di vista dell'elettrificazione non vi sono problemi perché, come si è detto, la tensione di 3000 volt è uguale. Una parte della rete jugoslava, cioè la Slovenia, mantenne così l'elettrificazione italiana. Oggi la Slovenia è indipendente e quindi non ha problemi nemmeno verso i nuovi stati sorti dalla distruzione della Jugoslavia. Poiché la tensione è uguale, le sottostazioni lavorano in parallelo. Ad esempio la sottostazione di Villa Opicina lavora con quella di Trieste ma anche con quella di Piuca. E naturalmente i treni in arrivo non hanno problemi, non bisogna abbassare i pantografi, le manovre si fanno tranquillamente. La locomotiva ora del nostro treno viene sganciata mentre in fondo, sul tronchino, la locomotiva slovena sta aspettando il suo turno. Inizia la manovra. La locomotiva FS esce dal primo binario obbedendo ai segnali bassi che comandano la manovra. La manovra di cambio locomotiva e la successiva prova a freno sono così semplicissime. Però nelle stazioni di frontiera l'esercizio ferroviario è sempre subordinato poi ai voleri della polizia di frontiera e della guardia di finanza. Ferroviariamente parlando può essere tutto a posto ma dal punto di vista della polizia no e fare ritardo. Si esce ora dal primo binario di Villa Opicina. Vediamo nel tronchino la locomotiva slovena della serie 342. Sono queste locomotive B0-B0 ordinate negli anni 60 alla Breda di Milano. Questa locomotiva in sostanza è un 646 italiano ma accorciato con soli 4 assi invece di 6 e con cassa unica. Siamo qui ora sul binario di corsa verso Ljubljana. Mentre a sinistra vediamo la transalpina che prosegue verso Monrupino. Mentre la nostra macchina si ferma al segnale basso intanto la locomotiva slovena è uscita dal tronchino e si sta portando in testa al treno. Ora si cambia il banco della locomotiva. Ecco il segnale basso che ci dà via libera per la nostra manovra con le due luci bianco orizzontali che diventano verticali. Ora si cambia i cali. La locomotiva FS si avvia così verso il secondo binario da dove poi proseguirà con altri servizi. Intanto la locomotiva slovena si è già agganciata al treno e sta iniziando la prova a freno. Ecco il nostro treno con in testa la locomotiva slovena serie 342. Pronto a ripartire per Ljubljana. Naturalmente dopo in nulla osta della polizia e della guardia di finanza. Scendiamo ora dalla locomotiva FS e saliamo su quella slovena. Sopra il treno si può vedere la vecchia stazione di Opiccina. La 342 si guida più o meno come i 600 km. Il maniglione reostatico però ha soltanto la serie e il parallelo. Manca la serie parallelo. Vi è in più il secondo maniglione reostatico di frenatura elettrica per le discese. Gli indebolimenti di campo, i Schunt, sono cinque sia in serie che in parallelo. Mentre invece sulle locomotive FS nel parallelo sono solo tre. Partenza dalla stazione di Villa Opiccina in perfetto orario. In fondo il segnale di partenza italiano, che in questo caso deve essere conosciuto dal macchinista sloveno, unico per tutti e due i binari, mostra luce verde. Sotto vi è l'indicatore di direzione con il numero 2, direzione Sesana. Con il numero 1 invece si va sulla linea transalpina, verso Mon Ruppino. Manca sotto il segnale il triangolo della velocità ridotta. Comunque è chiaro e obbligatorio che deve essere qui 30. Ed eccoci ora nuovamente sui binari di corsa della ferrovia Trieste-Lubiana, la ferrovia meridionale. Siamo qui però sempre sulla nuova variante. A sinistra si allontanano due binari, uno è l'asta di manovra, l'altro invece è la linea transalpina, che qui proseguiva fino a Mon Ruppino e poi a Creplie, dove da tutt'ora è in funzione con la nuova diramazione proveniente da Sesana. Questo percorso invece, o Piccina Creplie, oggi non è utilizzato, anche se in teoria lo potrebbe essere. Il treno ora prende la velocità di 75 km l'ora. Siamo ora arrivati al punto dove il vecchio tracciato viene ripreso. Finisce qui la nuova variante degli anni 60. Siamo nuovamente sulla vecchia Sidband di Carlo Gheger. Ecco il punto esatto di congiunzione. Eccoci nuovamente sulla Vienna Trieste. Negli anni 30, come si è detto, le FS intrapresero un programma di ammodernamento. Venne così fatta l'elettrificazione e istituita una serie di posti intermedi. Posti di blocco che all'epoca però erano soltanto posti di giunto telefonico. Il posto numero 6 lo vedremo tra poco. Abbandonato dalla seconda guerra mondiale e ancora però in piedi. Passiamo ora sotto il ponte della strada Opicina-Sezanne, importantissima strada. E' praticamente la Trieste-Lubiana e questa è la nuova autostrada. Su questo tratto è in funzione il blocco elettrico FS. Le FS non volevano avere un tratto di linea internazionale a blocco telefonico e perciò in un accordo apposito con le loro ferrovie jugoslave venne deciso di montare un blocco FS a Sesana. E' questo quindi un caso unico in Europa di una linea di uno stato che esercita però la via libera con il blocco di un altro stato. Linea slovena e blocco italiano. Si costeggia ora il Monte dei Pini mentre ci appare il rudere del vecchio posto di giunto telefonico 6. Siamo ora quasi al confine di stato. Il confine di stato chilometro 32,5 da Trieste chilometro 682,5 da Belgrado nella famosa megalomania serba di vedere Belgrado il centro del mondo. Ecco il confine, un metro prima di questo cavalcavia. siamo in Slovenia. Geograficamente parlando siamo ancora in Italia ma questa zona è sempre stata abitata praticamente ormai da mille anni dagli Sloveni. L'Italia dopo il 1918 se ne impossessò come il Sud Tirolo zona geograficamente italiana ma abitata unicamente da tedeschi. Poi subito impose un'italianizzazione forzata che porterà poi a gravissime conseguenze. Nei libri di storia si legge che la colpa è del fascismo ma questo non è vero. Cominciò subito. Eccoci incrociare l'Espresso 264 Zagabbi a Trieste il crash. Questo non è vero si diceva. Il fascismo cambiò solo i metodi che però erano già in atto. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Sesana 321. A Sesana venne costruito dall'Italia un apparato. Dalla Ivem di Vicenza. Ecco il segnale che ci mostra due luci verdi sovrapposte. Questo segnale era fatto a candeliere. Quella volta anche gli avvisi erano a candeliere e perciò avvisava o il corretto tracciato o la deviata. Recentemente le due luci che prima erano inclinate sono state sovrapposte. Il segnale mostra però sempre le due luci verdi. E questo è un curiosissimo caso praticamente di stazione museo di vecchio regolamento FS sopravvissuto fino ai giorni nostri. Per il momento la stazione non è ancora stata modernata con un apparato migliore. Ecco il segnale di protezione verde. In questo caso il segnale non dà nessuna indicazione della stazione ma d'altra parte la fermata Sesana obbligatoria per tutti i treni. Ecco la tabella 10 velocità 10 mentre entriamo nel piazzale della stazione di Sesana. Vi è qui un grande rallentamento a 10 sui due binari di corsa. Questo rallentamento è ormai inserito in orario. Questa tabella bianca con le strisce nere oblique ci dava l'inizio del rallentamento. Sullo sfondo vediamo il monte Nanos dalla caratteristica forma come un panettone che precipita. E' quello il margine della selva di Piro e quello sarebbe il confine naturale della regione italiana. Questo rallentamento a 10 è dovuto al fatto che questi binari sono molto vecchi e sono ormai da sostituire. Ecco la tabella di inizio di cui si diceva prima. Sono da sostituire ma per una serie di problemi economici i lavori vengono sempre rinviati. Anche qui bisogna far quadrare il bilancio e allora in attesa di iniziare i lavori intanto si imposta ai treni la velocità di 10 km l'ora. Poiché tutti i treni devono fermarsi a Sesana sia passeggeri che merci. Infatti prima Italia e Jugoslavia ed ora Slovenia e Italia non si sono mai accordate per un unico posto di frontiera o piccina. E pertanto abbiamo due controlli di frontiera. Il primo italiano piccina e il secondo prima Jugoslave ora sloveno a Sesana. E' chiaro che i treni devono per forza fermarsi. Vediamo qui la polizia di frontiera che sta aspettando il nostro treno. Perciò il rallentamento a 10 non provoca eccessivi disagi. Il treno si ferma ora a Sesana per il secondo controllo di frontiera. Il fabbricato della stazione che vediamo sulla sinistra è nel classico stile austriaco della compagnia Sidban. Da qui nel 1946 è stata diramata una linea che raggiunge Creplie sulla Transalpina consentendo così l'allacciamento diretto della rete slovena con la Transalpina senza sconfinare a Villa Opicina. La locomotiva 342 ferma in stazione di Sesana. Sejana venne italianizzato nel 1918 in Sesana. Il Simpeon Express attende il secondo controllo di frontiera per poi poter proseguire verso Ljubljana. Partenza. Sempre in perfetto orario. In fondo il segnale di partenza con la luce verde da via libera. Da qua in poi vi sono tratti di blocco telefonico su quasi tutta la linea. In alcuni punti invece ammodernati è stato introdotto il blocco automatico. Il segnale di partenza è anche di tipo FS. Fa sempre parte di quel vecchio apparato della Ivem di Vicenza del principio anni 40 che è ancora in funzione. Non si tratta però di un apparato ACE come si potrebbe credere ma di un sistema compromesso fra il sistema idrodinamico e il sistema Siemens. Cioè sempre due cabine e un dirigente centrale. Con la differenza però che il dirigente movimento posto al centro della stazione. Ecco intanto la tabella bianca con le due strisce verticali per la fine del rallentamento. D'orario. Il dirigente dicevo posto al centro della stazione. Comanda quindi le due cabine e su un piccolo quadro può vedere l'occupazione dei binari. Un miglioramento del vecchio sistema ma non ancora un sistema del tutto nuovo. Sulla destra ora si dirama il nuovo raccordo per la Transalpina. Questo infatti va via sulla destra e poi ci passa sotto in galleria dirigendosi verso ovest. Ecco la nuova linea Transalpina, il raccordo che se ne va e comincia a scendere. Il treno intanto riprende velocità, 75 km l'ora. I portali delle stazioni secondo le ferrovie slovene sono indicati da queste L. che prima sono verso il basso e poi verso l'alto. A seconda del punto, e cioè uscita o entrata in stazione. Ecco qui prima in basso e poi in alto. Anche i colori cambiano. Rosso bianco e bianco nero. Ecco lì il vecchio segnale di protezione. Il treno ora è fuori dalla stazione ed abbandona Sejane. la locomotiva, come si vede, balla. Le sospensioni fanno questo scherzo ogni tanto. Si costeggia ora questa collinona denominata Zidovnik e si piega decisamente verso est. Da qua in poi la pendenza si è attenuata. Ora siamo mediamente su 7,8 per mille. In fondo comincia apparire il monte Vremschitz, sul cui fianco poi saliremo. Quindi io mi noia di tutti. E tutti gli attaccati. La posizione non mi so è un'amica. Credo che ci sono enta lì nelle loro strano. Perché? Ma non mi so. Non mi so è un'amica per la questa prun. E che ci sono un'amica per il resto. Non mi so è un'amica che. Lo si è un'amica. La linea ora compie questa piccola U passando il piccolo viadotto di Merce, vicino al paese omonimo. Ecco il piccolo e breve viadotto. Ci avviciniamo ora a Povir e fra poco vedremo un segnale di avviso. Questo però non è un segnale d'avviso di un posto di blocco intermedio, è legato invece al servizio viaggiatori della fermata. Ecco le tavole di orientamento, 3, 2, 1 e poi il segnale d'avviso, luce verde, avviso di via libera. Con la X che lo costrandistingue. La fermata di Povir, come altre fermate di questa zona, non ha sottopassaggi. Qui abbiamo un altro rudere di un posto di blocco ex FS, un posto anzi di giunto telefonico. La fermata, si diceva, non ha sottopassaggi. Per tale motivo, per i treni che provengono in senso contrario e si fermano sul binario accanto al nostro, vi è un attraversamento di viaggiatori. Ecco ora il segnale di Povir, luce verde, via libera. Mentre ci avviciniamo alla fermata dove vi è anche un passaggio a livello. Perciò questi viaggiatori scendendo dal treno attraversano il nostro binario. Il segnale perciò, eccolo qui, serve unicamente a proteggere questo attraversamento. Ecco la fermata di Povir, che nel 1918 l'Italia cambiò in Poverio. In questo modo, quando un treno locale si ferma, il guardiano della fermata e del passaggio a livello mette il segnale sul rosso e poi lo rimette sul verde. Il segnale non ha cioè nessun legame con la circolazione e con il blocco, ma è unicamente una protezione dei viaggiatori. Ci avviciniamo ora alla stazione di diramazione di Divaccia. Ecco le tavole di orientamento 321 e poi il segnale d'avviso verde, avviso di via libera. In tempi recenti, la stazione di Divaccia è stata notata di un raccordo con la vecchia linea diramata per Pola. Questo per consentire ai treni merci provenienti da Capodisti e diretti verso la Transalpina di evitare l'inversione di marcia a Divaccia. Perciò ora il segnale di protezione di Divaccia verso cui ci stiamo avviando protegge anche questo raccordo. Perciò il segnale porta anche un indicatore di direzione. Secondo il regolamento sloveno non abbiamo numeri ma lettere. In questo caso perciò il segnale ci mostra verde via libera con avviso di via libera e sotto la lettera L direzione liubliana. Il segnale mostra il verde perché, come in Austria, anche qui è d'uso predisporre il transito qualora i treni abbiano poi via libera, ecco il segnale col suo indicatore, ecco i portali e poi lo scambio 33, la dirammazione del triangolo verso Capodistria. Pertanto è già stato fatto l'itinerario di transito, il treno comunque deve fermarsi obbligatoriamente secondo l'orario di servizio. Ecco sulla destra allontanarsi il triangolo, il nuovo triangolo che ci porta sulla vecchia linea di Vaccia Pola e consente così ai treni merci di effettuare il transito senza invertire la marcia. Intanto il nostro Simplon Express si ferma ora nella stazione di Divaccia, che l'Italia dopo il 1918 cambiò in Divaccia-San Canziano, qui vicino infatti a tre chilometri via il villaggio di Scozian dove si trovano le famose Scoziansche Iame, le meravigliose grotte di San Canziano. Ecco il treno a fermarsi nell'imponente stazione, stazione di diramazione con il grande fabbricato Ex-Sitban. Il 20 settembre 1876 Da Divaccia si diramò la linea Divaccia-Pola delle ferrovie imperiali austriache, per sentire così il collegamento con la principale base navale della marina. La stazione divenne così un'importantissima diramazione. Poi il 6 luglio 1887 da Trieste-Sant'Andrea salì ad Arpelle-Cosina la stazione contigua e la linea della Varosandra. In questo modo si poteva anche venire da Trieste sulla Ex-Sitban con un notevole accorciamento di percorso. Poi in anni recenti la diramazione per Capodistria. Come si vede perciò Divaccia è un'importante stazione di diramazione. Ecco il segnale di partenza verde posto a destra. Via libera. Mentre usciamo dalla stazione di Divaccia un piccolo commento. Secondo il regolamento ex-usulavo, ora sloveno, la circolazione si svolge a destra e i segnali stanno a destra. La Sidban però, come compagnia privata, aveva la circolazione a sinistra. E infatti noi viaggiamo ora a sinistra. Ma questa è un'eccezione. Perciò per regolamento è stato deciso che mentre i segnali d'avviso e i segnali di protezione si trovano sempre a sinistra, nelle stazioni il segnale di partenza si trova sempre a destra. Ecco in fondo il monte Vremschizza, su cui il fianco ora andiamo a viaggiare. Con pendenza media fra il 9 e l'11 per mille, la linea ora deve descrivere una grande U per poter salire sul fianco del monte. Ora cominciamo la U verso sinistra. Ogni tanto, qua e là, vediamo dei grandi muri. Eccone ora uno sulla destra. Questi muri sono stati costruiti per proteggere la ferrovia dalla bora. D'inverno la bora è particolarmente violenta. Ecco un altro muro di protezione. Per evitare così, nei punti più esposti, problemi per i convogli, sono stati costruiti questi lunghi muri di protezione. Li incontreremo praticamente fino a Postumia. Comincia ora la grande U. Il treno riprende a girare verso destra. Poi vi è questo lungo rettilineo. Il monte che vediamo sullo sfondo, Vremschizza, deriva il nome dal latino Auremianum, che poi si è trasformato nella lingua slava in Vremschizza. Da ciò il nome, dato poi dall'Italia, di Monte Auremiano. Ora nuovamente verso destra si comincia a chiudere la U. La linea sale sempre più sul fianco del monte. Un altro rettilineo, poi ancora una serve di curve, chiuderà finalmente questa grande ansa, mentre cominciamo a correre a mezza costa. La pendenza ora si mantiene costante su 6 per mille. Ai tempi delle FS, sotto l'amministrazione italiana, si ritene che la distanza fra Divaccia e la successiva stazione fosse troppo lunga. Venne perciò costruita una stazione intermedia e poiché qui non vi sono abitati una stazione soltanto di servizio. Eccone qua i resti, li vedremo fra poco, la rampa di carico sulla destra, mentre il fabbricato invece, che fino a pochi anni fa si vedeva sulla sinistra, è sparito. Questo scalo soppresso si chiamava scalo gabecce. Poiché venne costruito dall'Italia e poi dopo la guerra subito soppresso, il nome è rimasto tale soltanto in lingua italiana. Ecco sulla destra i resti del binario deviato e la rampa di carico. Sulla sinistra invece, dopo questi alberi, vi era il fabbricato. Fino a pochi anni or sono, non è questo, questo è nuovo. Il fabbricato era qui, in questo spiazzo, proprio sotto il muro antibore. Ed oggi, non vi è più traccia di lui. Lo scalo è stato così abbandonato e la piena linea ripristinata. Probabilmente forse lo si era costruito pensando anche di poter caricare legname dato la presenza della rampa di carico, ma sostanzialmente la sua presenza era del tutto inutile. Siamo ora arrivati sopra la valle del Timavo Superiore, il fiume che si inabissa nelle grotte di San Canziano e poi rispunta a Duino e che rifornisce l'acquedotto di Trieste ad Aurisina. Questo fiume, in sloveno, si chiama Recca. La linea ora si trova alta proprio sul fondo valle della Recca. Siamo a circa a una sessantina di metri sul fondo valle e fra poco ci affacciamo ad un balcone panoramico. Siamo a circa la tabella che è passata ci avvisava ora la prossima fermata, Vreme. Ecco, ora ci affacciamo sul fondo valle e questo è un punto molto bello con la linea che ora passa in questo scavo fra due roccioni. Subito dopo arriviamo alla fermata di Vreme. Qui in basso abbiamo due abitati, Vreme e Vrensky-Britov e la fermata si chiama Vreme. Sotto l'Italia invece il nome era Cave Auremiane, anche se non vi è un collegamento perché Vrensky-Britov vuol dire cimitero di Vreme. Ecco la fermata di Vreme. Anche qui l'attraversamento dei viaggiatori per un treno che si fosse fermato su questo binario viene protetto da questo segnale che vediamo ora rovescio. Ci avviciniamo ora alle cosiddette Sei Sorelle di Lesece. Sono sei gallerie la cui lunghezza è molto simile con i quali vengono passati degli speroni del Monte Auremiano. Su questo rettilineo ce ne apparano ora le prime due in successione. Entriamo così nella prima galleria, la galleria di Vreme di 444 metri. Dopo la galleria di Vreme ecco subito la galleria di Jebel di 336 metri. Una delle curiosità di queste sei gallerie è che nessuna di esse ha il portale uguale. Tutti e sei i portali hanno delle lievi differenze. È una vera e propria originalità costruttiva di Carlo Ghega. Subito fuori della galleria di Jebel si trova il segnale d'avviso di Gorni e Lesece che con la sua luce verde ci avvisa via libera. ci avviciniamo ora al segnale di protezione di Gorni e Lesece che con la sua luce verde ci dà via libera con avviso di via libera. e quasi subito incorrocceremo l'Intercity Pochorie Maribor Capodistria trainato dalla nuova locomotiva di origine francese della serie 363 l'Intercity 503. Ecco il segnale di protezione ed ecco l'Intercity 503. in segnale di protezione Ed eccoci a Gornie-Lesecce, poi cambiato dall'Italia in Lesecce-Auremiano. In fondo il segnale di partenza verde ci dà via libera, questo segnale però è a sinistra. Ai tempi dell'Austria la stazione era anche chiamata Ober-Lesecce, Lesecce di sopra. Gornie-Lesecce vuol dire Lesecce di sopra. Da ciò venne il curioso detto triestino per dire quando qualcuno era un mezzo disperato, ma cosa vieni da Ober-Lesecce? Ed ecco ora la galleria di Lesecce di 360 metri. Osservando il binario, questo sembra serpeggiante, ma non è il binario che serpeggia. E' stato adeguato alla sagoma del gabarit C e si si è accorti che semplicemente senza scavare niente, ma opportunamente spostandolo di qua e di là su ambi i binari, si riusciva a passare con i cari in piena velocità senza toccare i muri della galleria. Un indovinatissimo espediente di ammodernamento. Ecco ora la galleria di Jurgovec, di 284 metri. Osserviamo sempre i portali diversi. La prossima fermata anche ha il problema dell'attraversamento viaggiatori, quindi anche qui un segnale protegge i viaggiatori. Ora ci avviciniamo al segnale d'avviso preceduto dalle tre tavole di orientamento che con la sua luce verde ci avvisa via libera. E contemporaneamente ci avviciniamo alla quinta galleria, la galleria di Krishischi, lunga 326 metri. Il segnale di avviso della fermata di Kosciana è posto subito prima dell'entrata della galleria di Krishischi. Questa galleria ha un portale veramente monumentale. Ecco anche il segnale di avviso della fermata di Kosciana, la tabella bianca con le tre strisce nere inclinate. Ora il segnale verde, dritto davanti a noi, da via libera per l'attraversamento viaggiatori. Ed ecco la fermata di Kosciana, coincidente con un passaggio a livello. Dopo il 1918 l'Italia cambiò il nome in Kosciana. Ed ecco apparire la sesta sorella di Lesecce, la sesta galleria, la più lunga, la galleria di Kosciana, di 540 metri. Il segnale di Lesecana, di 540 metri. Il monte Vremsica è ora alle nostre spalle. Continuiamo però a salire al 7x1000 sul fianco di questi rilievi. Sotto l'amministrazione italiana venne posto più avanti un altro posto di giunto telefonico. Di esso non vi è più traccia. Però qui è stata, negli anni 60, costruita una fabbrica. Questa fabbrica è stata raccordata con la ferrovia, sebbene soltanto con l'altro binario, non con il binario su cui stiamo viaggiando. Questo binario di raccordo è stato indicato come scalo di Kosciana. E vediamo proprio un treno merci che si è fermato e che si appresta a manovrare per entrare nel raccordo. Per poter fare queste manovre bisogna ovviamente interrompere la circolazione fra Gornie e Lesecce e Piucca. Eccoci passare vicino all'impianto industriale dello scalo di Kosciana. Grazie a tutti. Ci stiamo ora avvicinando la vecchia Sankt-Peterim-Krein. Da qui, il 20 giugno del 1873, le ferrovie imperiali austro-ungariche diramarono la linea che porta tuttora alla città di fiume. Questa linea, fino alla nascita delle nuovi stati di Slovenia e Croazia, era una linea importantissima. Uno dei due sbocchi del porto di fiume verso il centro Europa, l'altra è la linea Fiume-Zagabria. Oggi con i nuovi confini è diventata improvvisamente una linea meno importante. Sankt-Peterim-Krein esattamente significa San Pietro nella Carniola, nome antico della Slovenia. Krein è il nome della regione ai tempi dell'Austria. Il nome slovene era Sveti-Petar-Nakrashu, da cui poi l'italiano San Pietro del Carso. Dopo il 1945, il nuovo regime comunista di Tito decise di eliminare i Santi, e così San Pietro sparì e il nuovo nome fu Piuka, poiché qui vicino nasce il fiume Piuka. La stazione di Piuka, tuttora importante stazione di diramazione e dove anche si trova la sottostazione elettrica di questo tratto di linea, non è ancora stata modernata e possiede perci ancora i vecchi segnali ad ala, austrum grattici, e quelle tavole di orientamento 3-2-1 del segnale di avviso e poi il quadrato rovesciato che avvisa via libera del segnale di avviso, individuato anche dalla X bianca. Nel percorso della prossima curva possiamo vedere in alto sulla sinistra nello schermo il segnale di protezione con l'ala alzata a 54 gradi che dà via libera in corretto tracciato. Per la deviazione invece sarebbero state alzate tutte e due le ali. Il nostro Simplon Express, che però in Slovenia è considerato Intercity, si ferma così in perfetto orario alla stazione di Piume, la vecchia San Petar in Piaina e sotto l'Italia San Pietro del Carso. Vediamo sulla destra il binario della linea che proviene da Piume, dalla Croazia. Questo binario si innesta sul primo binario e non sui binari di corsa. Questo è un difetto di questa stazione. A sinistra vediamo, in attesa del proprio turno, un elettrotreno di costruzione polacca, la famosa Gomulka. Non lo sapevo. Andiamo a stare da cammina. Si riparte da Piume. Siamo dal chilometro 508,773 da Vini a 577 e meno. Questo è il culbine del viaggio Trieste-Luviana. Ecco ora in fondo il segnale di partenza che con l'ala alzata ci dà via libera. La linea ora inizia a scendere in pendenza dell'8 per mille. Per quanto riguarda i nomi delle località, va detto che questi nomi avevano sempre un nome sloveno, ma sotto l'Austria il nome principale era il nome tedesco, anche se esisteva sempre per il nome sloveno. Il treno riprende ora velocità a 75 km l'ora. Stiamo scendendo nella conca verso Postoina, cioè Postumia, la conca percorsa dal fiume Piuka. Il culmine di San Pietro del Carso è lo spartiaccio fra l'Adriatico e il Mar Nero, in un certo senso il culmine naturale d'Italia. Se fino a qui l'Italia poteva avere ragione in senso geografico, anche se non come popolazione, da qui in poi non aveva più ragione, anche se queste terre fino dal 1918 al 1945 appartennero all'Italia. Ora stiamo per incrociare un treno locale per servizio pendolare. Questo treno è fatto di vecchie vetture a due assi che sono state però ridipinte nei nuovi colori. Sembra un treno nuovissimo ma in realtà è ultra vecchio. E il macchinista infatti commenta ecco il treno di Franziose. Ecco ora l'incontro con il treno pendolare di vecchie vetture ridipinte. Ci stiamo ora avvicinando alla stazione di Prestranek. Presto vedremo il segnale d'avviso preceduto dalle tavole di orientamento. Intanto i macchinisti e gli accompagnatori fanno degli interessanti commenti sulla situazione politica dell'Italia. Ecco le tavole ecco il segnale che avvisa via libera. Tutti i soldi lo so nel sud ci avviciniamo ora al segnale di protezione della stazione di Prestranek che con la sua luce verde dà via libera con avviso di via libera per il transito. Ecco il segnale di protezione. Si transita ora per Prestranek. Un tempo questa era una piccola stazione poi sotto l'Italia venne qui creato uno scalo di smistamento doganale per le merci. Prestranek divenne così una grande stazione e tale è rimasta. Per il traffico merci è tuttora un importantissimo scalo. Sotto l'Italia il nome era Prestranek divenne. Dopo la curva vi è fabbricato viaggatori nel classico stile SIGBAN. Vediamo ora in alto sulla linea aerea verso destra una freccia rossa verso sinistra questo segnale ci indica che il segnale di partenza invece che a destra come da regolamento è a sinistra ecco la freccia poi il fabbricato viaggiatori ed ecco a sinistra il segnale di partenza verde che dà via libera subito dopo si passa il viadotto di Prestranek lungo 48 metri sopra la strada che congiunge il Isca Bristritza con Postugna la linea ora riprende a salire dopo questa breve discesa nuovamente all'otto per mille serpeggiando tra i boschi in questo tratto man mano che si avanza si può notare il cambio della vegetazione cominciano ad apparire gli abeti che poco a poco diventeranno predominanti e questo infatti il cambio del clima fra il clima ancora che risente dell'influsso del mare e il clima decisamente interno e continentale e il clima Si incrocia ora un treno merci trainato dalla 363, la briguita francese. Come si vede in fondo, le foreste diabeti diventano sempre più fitte. Si continua sempre serpeggiando fra questi bellissimi boschi, sempre in salita dell'otto per mille. Ci sono ancora, come si vede, dei muri antibora. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Postoina. Come si vede, sono su ambo i binari. Ed ecco i segnali. Per noi, a sinistra, verde, avviso di via libera. Sull'altro binario, invece, giallo, avviso di via impedita. In tempi recenti, la stazione è stata rimodernata con un apparato a cei e i binari sono stati banalizzati. Anzi, da Postoina a Rakek è ora in funzione il blocco automatico banalizzato. Ora qui, sulla sinistra, per i viaggiatori, si apre la conca di Postoina, con una meravigliosa vista sulla cittadina e sulla catena del monte Nanos, che domina la conca dall'alto. Ci avviciniamo ora al segnale di protezione di Postoina. Ecco la tabella OS che indica l'inizio del tratto banalizzato. Ed ecco il segnale verde via libera con avviso di via libera, che ci dà l'entrata in stazione e anche la via libera del segnale di partenza, anche se bisogna fermare d'orario. Si passa ora sopra la nuova autostrada di Ljubljana e si entra così nella stazione di Postoina. Postoina, ai tempi dell'Austria, si chiamava Adelsberg. Poi sotto l'Italia divenne Postumia Grotte. Ed era questa la stazione di trasmissione fra le FS e le ferrovie jugoslave. Il treno si ferma ora alla stazione di Postoina. Il treno riparte ora da Postoina. Qui a circa due chilometri sulla sinistra si trovano le meravigliose grotte dove sparisce il fiume Fiucca. Sono grotte meravigliose giustamente celebri in tutto il mondo. Il treno riprende la velocità di 75 chilometri all'ora. Ora, a destra del binario, il segnale di partenza verde ci dà via libera e sottovia anche il segnale di manovra disposto a luce bianca. Dopo la stazione di Postoina ricomincia la salita all'otto per mille. Ci si avvia verso il culmine della linea. Vi è ora una tabella di velocità con scritto 70. Ci avviciniamo a un tratto dove bisogna ridurre sia pur di poco la velocità. Il tratto è segnalato con le usuali tabelle. La tabella di inizio bianca con tre strisce nere inclinate e la tabella di fine bianca con due strisce nere verticali. Ecco la tabella di inizio. Si passa ora sotto il grande viadotto di Raubar Comanda della autostrada di Lubiana. Il nome di Raubar Comanda è il nome della zona che si trova alla nostra sinistra. Un nome che deriva dall'antico comando posto ai tempi dell'impero per difendere i viaggiatori sulla strada dai briganti. E quindi il comando dei briganti, il Raubar Comanda. Ecco la tabella di fine del tratto a velocità 70. Si può risalire a 75. In fondo vediamo appunto il bosco del Raubar Comanda. Siamo ora arrivati quasi al punto culminante. Ora sulla sinistra vi è la tabella bianca con una punta di freccia in basso che indica la fine della locomotiva di rinforzo. Dopo questa curva appare ora il punto culminante. E ora vediamo sulla sinistra appunto la tabella che indica la fine del rinforzo della locomotiva di spinta. Eccola. Ed eccoci arrivati ora al culmine della linea Trieste-Lubiana. Siamo al chilometro 491 più 780 da Vienna. 603 metri sul livello del mare. E questo il secondo punto culminante della ferrovia Vienna-Trieste. L'altro è il passo del Semmering. Ed ora inizia la discesa all'8x1000 verso la conca di Ljubljana. Sulla destra vediamo un fitto bosco di abeti. Oltre questo bosco si trova un interessante corso d'acqua che poi sparisce pure nelle grotte il Rack of Scotian in italiano il Rio dei Gamberi. Il paesaggio è ora totalmente mutato e si viaggia in mezzo a grandi foreste di abeti. Siamo qui in un clima continentale di montagna. In tutta questa zona d'inverno nevica abbondantemente. Ci avviciniamo ora ad un altro punto dove bisogna ridurre, seppure per un breve tratto, la velocità a 70. Ecco l'inizio del tratto. Ora incrociamo una Gomulca in servizio locale. e poi dopo questo trincerone possiamo riprendere la velocità di 75 km l'ora. Si costeggia in tutto questo tratto la nuova autostrada di Ljubljana. Quando venne costruita l'autostrada si pose il problema della linea ferroviaria per costruire il ponte. La linea perciò venne deviata con una deviazione a binario unico. Davanti a noi vediamo uno scavo proprio dritto davanti e la trincea dove passava il binario unico provvisorio ai tempi della costruzione del nuovo ponte della ferrovia sopra la nuova autostrada. Ora la linea piega verso est e si passa il nuovo ponte sopra l'autostrada di Ljubljana. Subito dopo il ponte vediamo da sinistra la massicciata il resto di dove passava la deviazione provvisoria. Qui il tracciato si ricongiungeva. Questa situazione provvisoria durò appunto per il tempo della costruzione di questo nuovo ponte. Nel periodo fra le due guerre qui ora sulla sinistra a una distanza media di 200 metri dalla linea ferroviaria vi era il confine di stato fra l'Italia e la Jugoslavia. La linea ora scende nella conca di Planina e compie qui una specie di U e per tutto questo tratto costeggiava il confine senza però oltrepassarlo. Soste da bobovrchi, un po' d'hotbo mu imeli. Si mi so te zanima, da si maledì? Nič. Il vecchio cipo di confine che indicava la frontiera fra Italia e Jugoslavia esiste ancora, anche se molto ma ridotto, e lo si può vedere fra la vegetazione. Ora, subito dopo la tavola di orientamento del segnale d'avviso di Rakek, in alto sulla sinistra, in mezzo alla vegetazione, si vede appunto questo cipo bianco, che era una volta il confine di Stato, mentre la linea comincia a girare. Ecco il cipo. Qui vi era l'antico confine. Intanto le tavole ci hanno annunciato il segnale d'avviso di Rakek, che con la luce gialla ci avvisa via impedita. Il macchinista tacita l'indusi e frena. La linea qui chiude la grande U che rovescia il senso di marcia. Al termine della grande U vi è la stazione di Rakek. Il treno ora rallenta, perché deve aspettarsi il rosso. Subito però, passata la curva, quando il segnale di protezione di Rakek è in vista, si vede che è disposto al verde, cioè via libera con avviso di via libera. Il treno evidentemente è stato aperto intempestivamente. Il treno così non si ferma e il macchinista riprende la corsa. Ecco in fondo è apparso il segnale con la luce verde. Il treno così ora riprende la velocità di 75 chilometri l'ora. Passato il segnale, siamo arrivati alla stazione di Rakek. Finisce qui il tratto banalizzato. Il treno ora transita in stazione di Rakek. Vi ho ora un ripetitore che indica la posizione del segnale di partenza in fondo. Mentre incrociamo l'espresso Vienna Fiume. Ecco qui il ripetitore verde con una luce bianca che ci indica la via libera del segnale di partenza e poi dopo la curva il segnale di partenza verde che ci dà via libera. E subito dopo la tabella OS con la freccia in basso che indica la fine del tratto banalizzato. La linea ora procede con un andamento abbastanza pianeggiante. Siamo intorno al 3-4 per mille, sempre in discesa. Si costeggia qui la grande conca di Planina. Dopo il 1941, l'Italia dichiarò guerra alla Jugoslavia e successivamente annesse la Slovenia, creando così la quarta provincia della Venezia Giulia, la provincia di Ljubljana. I nomi di questi paesi vennero tutti perciò italianizzati e Rakek divenne Recchio. Naturalmente, questo provocò poi un contrasto e il risentimento della popolazione slovena. E fu la premessa di quei brutti e terribili episodi che si succedettero poi sia durante l'occupazione italiana della Slovenia sia successivamente alla fine della guerra e di cui ancora oggi nella città di Trieste si pagano le conseguenze. Il treno costeggia, come si è detto, la grande conca di Planina. Questa conca d'estate è una conca pianeggiante piena di erba ma al disgelo si riempie d'acqua e quindi in primavera è praticamente un lago, un lago temporaneo. Questo lago è formato sempre dal fiume Piuca. Il fiume Piuca dopo essere sparito nelle grotte di Postumia ed essere passato nel cavernone di Planina ritorna qui in superficie e percorre il pianoro. Però nel periodo del disgelo lo inonda creando questo lago. Il fiume però qui ha cambiato nome. Non si chiama più Piuca ma Unza. E questo è il primo cambio di nome della Piuca. più avanti cambierà ancora nome. Alla fine del pianoro la Piuca sparisce nuovamente. La velocità ora è salita a 85. Ci stiamo avvicinando all'antica stazione di Planina. Planina un tempo era stazione ma poi è stata ridotta ad un semplice posto di blocco. Abbiamo così dei segnali di blocco segnali del vecchio tipo semaforici che dividono a metà la tratta fra Rakek e low-cutter. E con le tavole di orientamento del segnale d'avviso che con il suo quadrato rovesciato ci avvisa via libera. Ed ecco ora il segnale di blocco che con l'ala alzata a 54 gradi ci dà la via libera. Siamo arrivati al piazzale dell'ex stazione di Planina ora fermata. Il fabbricato viaggiatori molto grande indica appunto che Planina era una stazione. Vi sono ora degli operai in linea ed è stata esposta la tabella di lavori sulla linea. Ecco la tabella mentre il treno fischia per richiamare l'attenzione degli operai. Dopo Planina la linea riprende a scendere intorno all'8 per mille. Nel' seno no l'al'o non non sin in l'al'o il 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 l'al'o il il l'al'o 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 Tutta questa zona è ricoperta da fittissimi boschi di abeti attraverso i quali passa la nostra linea ferroviaria. E' un paesaggio molto bello. E' un paesaggio molto bello, e' un paesaggio molto bello, e' un paesaggio molto bello. E' un paesaggio molto bello, e' un paesaggio molto bello, e' un paesaggio molto bello. E' un paesaggio molto bello, ma fatto sia comunque ofta, e' un paesaggio molto bello. Si ripassa ora sotto l'autostrada di Ljubljana, ci si avvicina alla prossima stazione, anche questa ha ancora i vecchi segnali semaforici, anche se però sono in fase di montaggio i nuovi segnali luminosi annullati. Anche se abilano, non ci si avvicini, se mi abbia da fare, io vorrei anche… Per? Mi chiamo anche un' erano? Un' erano? Un' erano? E' uno mi sembrava, un' erano? E' uno mi sembrava, un' erano. Lo stiamo facendo, un' erano? Questo è il più grande darino che ha fatto in CCC. Siamo chiamati e ciò che è iniziato da te. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Lovci, sì, sì. Lovci, sì, sì. Lovci? Sì. Lovci? Sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso, che col quadrato rovesciato avvisa via libera, mentre incrociamo un alto treno merci. Ecco il segnale di avviso, avviso di via libera. Il segnale di protezione, anch'esso semaforico, non ha il segnale d'avviso del segnale di partenza. Quindi, quando è disposta via libera, avvisa anche la via libera al segnale di partenza. Ecco i nuovi segnali luminosi annullati, in fase di montaggio. Ecco il segnale di protezione con la lanzata che dà via libera con avviso di via libera. Quando il treno non ha la fermata d'orario, se si vuole fermarlo, bisogna perciò prima fermarlo al segnale di protezione. Si transita ora per la stazione di Logate. E' questo un posto antico della vecchia strada Aquileia e Mona. Longaticum, da cui poi il nome italiano di Longatico. Vediamo che, dove c'è, a chi si sape. Sì, a chi si sape, a chi si sape. E' un problema. E' un problema che si sape, a chi si sape. E' un problema che si sape. ecco in alto la freccia rossa verso sinistra che ci mostra il segnale di partenza eccolo con la l'alzata posto a sinistra invece che a destra ora all'uscita della stazione la velocità scende a 75 km all'ora mentre la pendenza aumenta all 11 per mille e questa ora la grande rampa che ci porta nella pianura di ljubljana ma davanti Bici che per me chiedi? Non ve TV? Non ve, non ve. Ti puoi dire, il pescione è un pollo. Ma io sve, si è così. E un pollo, è uno da ciò. Guardi, tu mi pensi quello di pescione? Guardi. Ho un po' 30 kg ha prescione. Ma a ciò che si è sp была e un po' le occidentale. Lei si dice che mi face la base e le cose nero. Vedi che, ho un po' 32 kg, guardi che io, la cosa che era? Vi e il Ustolo. 1 milione. Si continua qui a scendere ancora fra i boschi, ma fra un poco sboccheremo alti sopra la pianura di Ljubljana. Mi ha detto che vediamo, in ci sono stati spettici, dove non so spettно di se lovinite, ma poi smettino delle pare. Mi hanno detto che non so si le prendi tfi. Mi hanno detto che si sono stato fatto, per quanto riguardano i trovarsi di svantaggio. Nostre, i ne devo vedere, non mi ha detto che durante il nostro nostro lavoro. Non è di più vero? No, non è più vero. Ano che è d'aggiungo. Ma cosa è vero? Ma cosa è vero? Si è vero? Sì. Se tu poi soggono in un pozzo, è una cosa che è stato... Ma se ti non soggono in un pozzo, ti ti lo soppre. Non soggono? È ancora in un pozzo. 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 si passa ora vicini all'antica strada trieste lubiana siamo così arrivati sul fianco del monte praticamente in vista della pianura di lubiana ma naturalmente la linea ferroviaria non può scendere subito giù come fa la strada e deve invece costeggiare la montagna e scendere graduatamente sempre in pendenza dell'11x1000 questa discesa lungo il fianco della montagna si svolge sempre serpeggiando nel bosco in questa rampa non vi sono grandi opere d'arte vi sono alcuni viadotti ora sulla sinistra i viaggiatori possono vedere l'ampia pianura dove si trova lubiana anche se il bosco di abeti non consente però una grande visuale ci avviciniamo ora ad un importante viadotto il viadotto il viadotto il viadotto è il viadotto si è di più buona che scavalca l'antica strada postale di Ljubljana e ora scavalca invece la nuova autostrada, il viadotto di Stamppetow. Questo viadotto è lungo 80 metri. Quando è stata costruita la nuova autostrada una parte del viadotto è stata demolita e poi ricostruita in modo da avere degli archi più l'archi per le corsie dell'autostrada. La nuova parte è visibile perché l'autostrada è protetta da delle grate che impediscono appunto il lancio di oggetti. Il viadotto di Stamppetow è uno dei più importanti viadotti di questa rampa discendente. Ora subito dopo la curva il treno passa così il viadotto di Stamppetow. Ci avviciniamo ora alla prossima stazione. Sotto di noi si trova un centro abitato. Questo centro abitato oggi si chiama Vornica, ai tempi dell'Austria Oberleibach, cioè Ljubljana di sopra. Ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso della stazione che con la luce verde ci dà l'avviso di via libera. La stazione si chiamò così Oberleibach, ma poi venne costruita la ferrovia che da Bresovica portava giù in pianura a Oberleibach e quindi rendeva inutile salire sin qui per scendere poi giù in paese. La stazione perciò cambiò nome e dal nome di un altro paese divenne Ferd, in sloveno verd. La stazione però è sempre lontana dai paesi. E' però importante perché vi è una cava e quindi svolge un importantissimo servizio merci. Ecco ora il segnale di protezione verde che ci dà via libera con avviso di via libera. Ed ecco ora la tabella 50 che indica una riduzione di velocità dopo l'uscita della stazione. Eccoci transitare per la stazione di Verde. Ecco la freccia verso sinistra che ci indica che il segnale di partenza è posto a sinistra invece che a destra. Ed ecco ora il segnale di partenza verde che ci dà via libera. E subito dopo la tabella che inizia il tratto da percorrere a velocità ridotta a 50 km l'ora. Siamo qui alti, sopra la pianura dove si trova come si è detto Vurnica, l'antica Oberlaibach che dava il nome alla stazione. Vurnica è celebre per aver dato i Natali a Ivan Zankar, uno dei grandi scrittori della letteratura slovena. Questa riduzione di velocità a 50 km l'ora è praticamente un rallentamento. E questo rallentamento è lunghissimo, si estende ora fino alla prossima stazione, cioè l'intera tratta fra le due stazioni. È dovuto al fatto che il binario che stiamo percorrendo è alquanto logorato. I binari perciò dovrebbero venire cambiati e sostituiti. I lavori però sono stati al momento rimandati per questioni di bilancio. Si è così imposta la riduzione di velocità a 50 km per motivi precauzionali. E poiché questa riduzione durerà a lungo, invece di segnalarla con i consueti segnali di rallentamento per lavori in corso, è stata segnalata come per le riduzioni di velocità fisse in orario. In questo modo, anche se il rallentamento durerà a lungo, si evita di dare ai treni prescrizioni continue. La linea continua qui a scendere lungo il fianco del monte e poco a poco si avvicina al fondo della pianura dove si trova Lubiana, o meglio della cosiddetta palude di Lubiana. Un tempo infatti questa zona ricca di acque era paludosa. Il fiume che percorre questa palude di Lubiana, il Lubiansco Barie, è sempre la Piuga che proviene dalle grotte di Postumia. Sparita a Postumia, è ricomparsa a Planina, ha attraversato la valle di Planina con il nome però di Unza, poi è nuovamente sparita in altre grotte ed ora Avurnica è ricomparsa. E qui prende il suo terzo nome, Liubianizza. La Piuga quindi praticamente nei tre tratti all'aperto del suo percorso cambia sempre nome. Siamo in un inizio di metro per il mio. Siamo in un'altra parte di attrazione. Siamo in un'altra parte della spaventura. Siamo in un'altra parte di attrazione. Siamo in un'altra parte di attrazione. Ci stiamo ora avvicinando anche al punto dove la linea è stata deviata. Il tracciato infatti originario della Sidban di Carlo Ghega nella zona di Borownizza passava dal monte su cui ora stiamo viaggiando all'altro monte attraverso il grandissimo viadotto di Borownizza lungo 500 metri, il più importante viadotto della linea Vienna Trieste. Questo viadotto però è stato distrutto dalla seconda guerra mondiale e la linea poi è stata ricostruita con una variante, come vedremo più avanti. La linea è stata ricostruita, è stata ricostruita, è stata ricostruita, è stata ricostruita. Un breve ponte di 11 metri. Alla linea è stata ricostruita, è stata ricostruita e quindi Ora un viadotto senza nome lungo 40 metri. Ci stiamo avvicinando al grande viadotto di Irschtaler e qui, subito dopo, che si ha il cambio di tracciato. Dopo il viadotto vi era la stazione di Borovnica e poi il grande viadotto di Borovnica. Questo viadotto venne distrutto una prima volta dalle truppe jugoslavi in ritirata nel 1941 a seguito dell'invasione italiana. Venne poi ripristinato con un ponte provvisore in legno, poi successivamente ancora distrutto in vari attacchi partigiani. Dopo la guerra le distruzioni erano tali, vista anche la lunghezza del viadotto di 500 metri, che si decise, invece di ricostruirlo, di deviare la linea con un nuovo percorso che con una grande U nella vallata di Borovnica consente così di arrivare al fondo valle, una variante completamente nuova. Aspetta qui a Lugliana. Si, non provo, la dà una bella propria scuola. Non so se era con chi si è meno d'accordo. Ed ecco il grande viadotto di Irschtaler, lungo 146 metri. Alla fine del viadotto, al chilometro 454 da Vienne, vi è il punto d'inizio della nuova deviazione. Sulla sinistra vediamo una casa, in fondo, fra gli alberi, e quella la vecchia stazione di Borovnica. Dopo di questa vi era il viadotto. La linea ora prende il nuovo tracciato, che gira praticamente attorno, con questa grande U, al paese di Borovnica. Sotto l'Austria il nome di Borovnica era Franzdorf, che non ha corrispondenza con il nome sloveno, che significa invece mirtillo. Durante l'occupazione italiana il nome divenne Boronizza. Questa deviazione è stata costruita negli anni 1945 e 1946. Vennero impiegati, da parte della Jugoslavia comunista, prigionieri di guerra italiani. Vi era qui un terribile campo di lavoro. Un episodio molto oscuro della storia. Tanto più se si considera che la guerra era finita e quindi i prigionieri erano trattenuti illegalmente. Su questa variante vi è una galleria. La galleria di Borovnica lunga 111 metri. E questa l'ultima galleria del viaggio Trieste-Lubiana. Abbiamo ora oltrepassato l'abitato di Borovnica e siamo quasi arrivati sul fondo valle, nella vallata di Borovnica, che prosegue avanti. Ed ora, con una grande U, praticamente un semicerchio, la linea rovescia completamente il senso di marcia. Ecco l'inizio del semicerchio, mentre le tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso di Borovnica. Questa grande ansa è molto bella. Un punto estremamente pittoresco. Ecco il segnale verde che ci dà l'avviso di via libera. È finita qui la pendenza e ora siamo sul fondo valle, praticamente orizzontali. Il vantaggio di questa nuova deviazione della linea è notevole. E' stato eliminato il viadotto e la stazione intermedia fra i due viadotti, quello di Ryshtaler e quello di Borovnica, stazione che era molto piccola. Così, con la linea invece ora sul fondo valle, abbiamo invece una nuova stazione molto più lunga e quindi molto più adatta al servizio che deve svolgere. Ora la grande U si chiude, abbiamo completamente rovesciato il senso di marcia e stiamo ritornando verso Borovnica. Ora il segnale di protezione verde ci dà la via libera con avviso di via libera. Anche qui l'apparato è nuovo e i segnali sono su ambo i binari. Vediamo ora in mezzo alle case come una specie di campanile bianco. Eccolo proprio davanti a noi e quello è l'unico pilone superstite dell'antico viadotto, lo spettacolare viadotto di Borovnica. Il più grande viadotto della linea Vienna Trieste. Si transita ora per la stazione, ecco la fine del rallentamento a 50. Il treno prende ora la velocità di 75 km l'ora. Ecco la nuova grande stazione di Borovnica. In questo senso la linea ha guadagnato da questa deviazione. Questa deviazione entrò in servizio nel 1946, prima con un binario solo e poi con tutti i due. Più o meno dove si trova ora a sinistra il nuovo fabbricato della stazione di Borovnica, si interseca a 90 gradi il vecchio tracciato di Carlo Ghega, qui vi era il grande viadotto. Ora lo scambio estremo, ecco intanto il segnale verde a destra che ci dà la via libera, la velocità sale a 100 km l'ora. La linea ora è praticamente una linea di pianura. Si costeggia ora la pianura di Lubiana. Comunque come si nota la linea non è sul fondo valle, ma praticamente al confine tra il fondo valle e l'inizio del monte, cioè su un terreno comunque solido. Il fondo valle infatti, anche se la palude ora è prosciugata, è comunque sempre un terreno alquanto instabile. Sulla nostra destra ora continua a mezza costa la discesa dell'antica rampa della Sidvan di Carlo Ghega. In questo tratto vi sono anche due bei viadotti che sono stati abbandonati. che ci sono stati appassati. C'è un bar che ti allo scambio sono stati, nel mondo del mondo è stato attraversato il mondo. . . . . . . Grazie a tutti. Ora il vecchio tracciato, che è qui sulla nostra destra, lontano, su quel rilievo che vediamo, si accosta al nuovo tracciato. E poi ad un certo punto i due tracciati si riuniranno. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso verde a viso di via libera di Prescerie. Ed ecco, vediamo a destra la rampa discendente dell'antica linea. Ci stiamo ora avvicinando al punto dove i due tracciati si riuniscono. Ora il segnale di protezione di Prescerie verde ci dà via libera con avviso di via libera per il transito. Ecco il segnale. Ed ora qui, in questa curva, al chilometro 447,5 da Vienna, si ritorna sul vecchio tracciato della Sidbank. Si attraversa ora la stazione di Prescerie, ai tempi dell'Austria, Premsfer. Il segnale di partenza verde ci dà ora la via libera. Si attraversa così la palude di Ljubljana, con la grande diga costruita attraverso questa palude, che richiese, ai tempi della costruzione, due anni per il suo assestamento. Qui vi sono tre ponti, in stretta successione, sulla Ljubljana, ecco il segnale verde. Tre ponti di 23, 65 e 44 metri, praticamente collegati assieme, a formare come un unico ponte. Ecco ora le tavole di orientamento di un altro segnale di avviso verde, che avvisa via libera. Questo segnale si riferisce all'attraversamento viaggiatori della prossima fermata. Ora ancora un breve ponte, lungo 39 metri. Ecco l'avviso della fermata, la tabella bianca con tre strisce nere. Attraverso questi ponti la Ljubljana poteva passare oltre la diga ferroviaria. Questa diga è stato uno dei grandi lavori della linea Vienna-Trieste. Ecco il segnale verde ora, ed ecco la fermata di Notrani e Gorizze. Questo segnale protegge l'attraversamento viaggiatori, e non ha nessun rapporto con il distanziamento dei treni. Siamo ora praticamente in pianura sul fondo valle. I ponti che abbiamo visto sopra la Ljubljana, sulla diga, sono recenti. Un tempo qui, ai tempi di Carlo Ghega, vi era un ponte spettacolare. Tutto in muratura, come una specie di galleria artificiale. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Bresovizza. Il segnale verde ci dà l'avviso di via libera. Il transito per la stazione di Bresovizza va fatto però a velocità ridotta, a causa del lavoramento degli scambi che non sono stati ancora sostituiti. Sono state poste perciò le tabelle di rallentamento. Si incrocia un'altra gomulca. Ed ecco la tabella 50, per la velocità del rallentamento. Si entra ora in stazione di Bresovizza. Il segnale verde è via libera con avviso di via libera. Il treno riduce la velocità a 50. Il punto di inizio è annunciato dalla tabella bianca con le tre strisce nere inclinate. E qui dalla sinistra proveniva la diramazione che portava all'antica Oberleibach, cioè a Vurnica. La linea secondaria Bresovizza-Vurnica, che è stata chiusa nel 1966 nella politica di chiusura dei rami secchi che anche allora la Jugoslavia faceva, più o meno come altre nazioni europee. Dopo questa curva, mentre si transita per Bresovizza, inizia un rettilineo di 6423 metri, il più lungo rettilineo della linea Trieste-Lubiana. Ecco il fabbricato a viaggiatori di Bresovizza. Sotto l'Austria il nome era Bresoviz. Ed ecco ora a destra il segnale di partenza verde. Passati gli scambi, ora il segnale di fine del rallentamento ci consente di ritornare a 100 km l'ora. Si percorre, come si è detto, il più lungo rettilineo del tratto Trieste-Lubiana. Sei chilometri e mezzo. La linea qui è praticamente pianeggiante. Tutto il terenso su sabbia e il gelo, no? Siamo praticamente come un bel falcone sull'acqua, no? Sì, sì. Si passa ora sotto la strada Trieste-Lubiana e poi sotto la nuova autostrada. Praticamente qui comincia ora la moderna Ljubliana. Siamo nelle case dei soborghi. Bon benvenuti. Voi che Lauther particuli gi Nancy. Voi che succede in nodiera tra 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 tr woman e tre. Comincia qui anche una serie notevole di passaggi a livello, oggi tutti automatici. Grazie a tutti. Ecco una locomotiva 362 simile al 636 FS che tra i non treno merci. Le tavole di orientamento ci annunciano ora l'avviso di Ljubljana, verde lampeggiante, avviso di velocità ridotta e suona l'allarme dell'Indusi. Finisce qui il rettilineo. Ora sulla destra abbiamo il centro storico di Ljubljana, sulla sinistra vi un bellissimo parco, un parco pubblico chiamato il parco di Tiboli. Il treno rallenta per la riduzione di velocità. Tale riduzione da regolamento è a 40, ma in questo caso però, come segnalato da una tabella che vedremo più avanti, è di 30. Ecco la tabella 30. La linea ora piega verso destra per entrare in stazione di Ljubljana. Si passa qui alcuni ponti sopra importanti strade cittadine. Il segnale di protezione, giallo lampeggiante velocità ridotta su giallo, ci dà la velocità ridotta e l'avviso di fermata. La tabella OS ci ha anche indicato che ricomincia il blocco automatico banalizzato. Ecco il segnale, il macchinista tacita l'Indusi. E ora dalla sinistra provengono i binari della ferrovia del principe Rodolfo, l'antica ferrovia Anstetten-Villacco-Tarvisio-Ljubljana. Le due linee così si congiungono nella stazione di Ljubljana, l'antica Laibach. Siamo qui a 287 metri sul livello del mare. Il treno entra ora nel grande piazzale della stazione. Il vecchio fabbricato Sidvan si trova ora qui sulla nostra destra, accanto a dei binari non elettrificati. Al chilometro 432 più 307 da Vienne. Invece, il treno si avvia ora alle moderne pensiline, che però sono isolate dall'antico fabbricato Viaggiatori. Ljubljana quindi si trova in questa curiosa situazione di avere la stazione lontana dai marciapiedi con le pensiline. In perfetto orario, l'Intercity 221 Simplon Express si ferma ora in stazione di Ljubljana, da dove poi ripartirà alla volta di Zagabria. Percorrendo sempre l'antica Sidvan fino a Zidani Most, l'antica Steinbruck. In fondo, il segnale di partenza rosso ci dà ora l'arresto. Sia ora qui il cambio del macchinista. Il macchinista, salita o piccina, scende e viene sostituito da un collega che porterà ora il treno fino a Dobbova, la stazione di frontiera tra Slovenia e Croazia. Ecco il cambio dei macchinisti e ancora una visione della 342 e del Simplon Express 221. Finisce così il locorama del viaggio da Trieste a Ljubljana, sull'antica Sidvan, la ferrovia meridionale di Carlo Ghega. Grazie a tutti.